Forse il weekend del Mugello deve partire dal momento in cui uno va via, perché è lì che le cose che ti sono rimaste più impresse iniziano a riaffiorare, no? E quindi il weekend tra amici, passato con Alpine Stars, con Livio, il camminare avanti e indietro tra il rumore del paddock e delle moto, una sforchettata di qualcosa, un sorso di qualcos'altro, acqua per la maggior parte, una chiacchiera di un'ora con Salvadori che non ti riconosce finché non dici Pedro, i cinque secondi netti passati con Francesco, brevi ma sufficienti per una stretta di mano e un abbraccio che è una figata, pensate che non ho fatto in tempo neanche a chiamarlo per nome, un fist bump a Pedro, un buongiorno a Dovi, un sorriso e un ciao a Lorenzo vestito da pellicano mentre mangi del petto di pollo nell'ospitality di Alpine Stars, insomma, bello, figo, però c'è anche dell'altro, tipo la sensazione amara di essere all'interno di un sistema che funziona a rovescio, gestito da gente che nell'era dei social ti fa firmare dei fogli dove tu, invitato ad entrare come content creator, prometti di non fare registrazioni di alcun tipo pena la ghigliottina, perché guai a te se condividi la tua esperienza in giro per il paddock con il mondo, c'è il rischio di far invogliare altra gente e di far crescere la moto GP, meglio il silenzio, no? Il tutto controllato da scagnozzi in camicia bianca e spiccato accento spagnolo, che hanno le movenze, l'arroganza e la boria di un incrocio tra un soldato nazista e un vigile urbano annoiato, che ti guardano dall'alto al basso per assicurarsi che tu abbia il marchio giusto attaccato al collo. E tu dopo un po' sei lì che passeggi e ti ritrovi a pensare che sì, bello il film, belli gli attori, ma dentro sto cinema c'è una puzza che non si respira. Siamo stati 22 anni senza Marquez, credo che possiamo stare anche l'anno prossimo. Con Gigi sempre abbiamo sempre una relazione molto diretta e molto sincera e io sto in Ducati per Gigi da linea. Io sto in Ducati per Gigi da linea. Cioè, c'è il rischio, secondo te, di perdere Pramac e quanto peserebbe in questo caso? Mappazzone post-apocalisse di mercato sponsorizzato da NordVPN. NordVPN è una rete virtuale privata, cioè uno degli strumenti più utili e diffusi quando si parla di cyber security. È una app disponibile per la quasi totalità di sistemi operativi e dispositivi che prende la vostra connessione a internet e la nasconde al resto del mondo. Che sia il vostro operatore telefonico o i siti che visitate, usando NordVPN nasconderete la vostra identità e il vostro traffico online grazie alla crittografia dei dati e al fatto che NordVPN nasconde il vostro indirizzo IP, quindi più privacy e più sicurezza. E inoltre potrete scegliere a quale server connettervi da una lista di 111 paesi nel mondo, tra cui la Svizzera, così da poter accedere allo streaming della RSI e guardare MotoGP e Formula 1 in chiaro in italiano sulla TV Svizzera. Se lo acquistate cliccando il mio link che trovate in descrizione riceverete uno sconto esclusivo sui piani biennali più 4 mesi gratis. Il tutto accompagnato dalla garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. NordVPN.com slash Talking Helmet. Provatelo, grazie Nord. Allora, le gare al Mugello sono state molto significative ma quasi per niente spettacolari. Francesco ha annientato tutto e tutti, su tutti i livelli, e questo ha appiattito un po' il tutto. La manovra più impressionante ovviamente è stata la manciata di gas carica di violenza nel cambio di direzione uscendo dalla San Donato al primo giro, appena partiti. Quando ha passato Martin? Quello è stato un capolavoro a sé, anche se lo staccate dal resto della gara. Quello è un altro di quei momenti di genio di cui parlavamo poco tempo fa. Sono frazioni di secondo che cambiano tutto perché sono frazioni di secondo in cui c'è tutto. Frazioni di secondo che per noi che guardiamo sono l'essenza pura del motociclismo perché c'è talento, azzardo, opportunismo, determinazione e mettetelo a confronto con il resto delle cose che ha fatto Francesco per capirne il valore. Sì, è partito bene, si è posizionato bene, ha fatto gli incroci giusti, ha gestito, è andato forte, è stato costante e via dicendo. Ma quel momento lì, quella manciata di gas, ha fatto la differenza tra tutto e forse quasi niente. È stata bellissima. E moralmente invece il capolavoro è stato il fatto che lui ha detto per giorni Oh, bello il Mugello, bello il Mugello, bello il Mugello. E quanto mi piace il Mugello. E in più era il favorito perché veniva da una vittoria a Barcellona e da una doppietta al Mugello l'anno scorso. E quindi le aspettative erano alte. Aggiungete la tensione box Ducati che, quando si è in Italia, arriva di default e per non sfigurare poteva solo vincere bene. Qualsiasi altro risultato sarebbe stata una mezza sconfitta. E lui prende e fa una doppietta con una leggerezza che fa abbastanza paura, sinceramente. E poi per una volta, per la prima volta forse in maniera convincente da un po' di tempo a questa parte, c'era anche Bastianini, che il capolavoro l'ha fatto all'ultima curva dell'ultimo giro, sempre su Martin. E quello che manca a Bastianini rispetto agli altri forse l'ha detto Bastianini stesso quando ha raccontato che subire il sorpasso di Marquez a un certo punto gli ha fatto suonare la sveglia. E secondo me è un po' la metafora per tutta la situazione Bastianini. Grande talento che spesso rimane inespresso per qualche ragione, mancanza di fiducia forse, e viene fuori solo in casi particolari, saltuariamente, quando stuzzicato. E invece noi vorremmo che quella fame e quella grinta ce l'avesse sempre. Se facesse quello che ha fatto al Mugello tutte le domeniche, probabilmente adesso non sarebbe sul treno in direzione Austria. E il treno per l'Austria diventa la transizione giusta per aprire il discorso sul mercato. La storia è partita con Ducati che diceva al Mugello decidiamo. Poi però il Mugello si avvicinava sempre di più, Ducati fischiettava facendo finta di niente perché non sapevano più che raccontarci e Pramac non ne voleva sapere, e alla fine hanno dovuto rimandare. Dice no sì abbiamo detto al Mugello ma non intendevamo Mugello Mugello. Dicevamo sì Mugello ma non è che voglio dire... Cioè l'ho lasciato solo cinque minuti e ho messo anche le quattro frecce. Non è che abbiamo parcheggiato parcheggiato. Insomma ce l'hanno rincartata e promessa per un'altra volta. Al giovedì però arriva l'articolo di Ianieri sulla Gazzetta. La storia era la sua di Ianieri. Lo scoop era suo. Titolo Ducati ha scelto Martin. Allora lo sapete che quando c'è da sparare sui giornalisti sono quello col dito sul grilletto sempre. Non vedo l'ora. In questo caso però ragazzi la sparata è talmente grossa che c'è solo una possibilità che Ianieri scriva una roba del genere. Ed è quella che qualcuno all'interno di Ducati gliel'abbia data per buona quella notizia. Nel giornalismo c'è un limite della decenza oltre il quale neanche velocità settimana oserebbe andare. E una notizia del genere se fosse stata infondata sarebbe che ne so 100 chilometri oltre quel limite. E quindi secondo me Ianieri non ha fatto il titolone a caso. Non esiste proprio. Ducati aveva effettivamente scelto Martin. E anzi le voci di corridoio dicono che addirittura Martin avesse già fatto le foto per l'annuncio del passaggio nel team ufficiale. Quindi pensate un po'. È solo una voce non confermata da nessuno ma che non è lontana dalla realtà per una serie di ragioni. Comunque a quel punto Martin va a parlare ai microfoni della Dorna, come tutti i giovedì, e Dorna gli chiede dell'articolo della Gazzetta, ovviamente. E lui dice l'articolo è una speculazione solita dei giornalisti, però dice anche che il meeting con Ducati c'era stato e che era andato bene. E a quel punto la Dorna tira sulla telecamera, il microfono e tutti i fili, corre da Marquez e gli chiede che ne pensi della scelta di Ducati. E dice inoltre tu che farai? Andrai in Pramac? E qui il terremoto. Perché Marquez risponde, dice Ducati ha scelto Martin. A me non risulta, non lo so. E comunque, nonostante Pramac sia un ottimo team, non è un'opzione per me. Gelo totale. Che significa quella frase? Può significare che o ha cambiato completamente idea da quando aveva detto qualsiasi team, qualsiasi colore, basta che la moto sia ufficiale, e che quindi adesso voleva anche lui la moto rossa per forza o niente, o poteva significare che la frase di qualche settimana fa voleva dire o team ufficiale o moto ufficiale da Gressini. E questo l'ha poi confermato lui stesso dopo, dicendo che, se la sella ufficiale non fosse stata per lui, si sarebbe accontentato di un team satellite con moto ufficiale, rimanendo dove era. Stava a Ducati verificare quale delle due fosse. Cosa che però non sembra non aver fatto, perché poi Meda l'ha chiesto a Grassilli, e Grassilli gli ha detto che non se l'aspettavano che Marquez dicesse di non voler andare in Pramac. A fronte di una dichiarazione, me lo confermi Mauro, diciamo che non ve lo aspettavate, ieri e non così? Beh, non eravamo pronti a questo tipo. Che secondo me significa che Ducati aveva dato per scontato che Marquez sarebbe andato volentieri in Pramac. E non gliel'hanno neanche chiesto. Questo è confermato dal fatto che il piano di Ducati, secondo me, era chiaro. Martin in ufficiale, Marquez in Pramac con Motofactory, e così facendo avrebbero salvato sia Martin che Marquez che Pramac. In un colpo solo. Perché Campinotti l'ha sempre voluto Marquez, metteteci vicino anche Aldeguerre e Campinotti avrebbe accettato subito. E tutte le differenze tra lui e Ducati sarebbero state azzerate. La situazione Pramac è tutto un programma che, se volete vi riassumo, il team Pramac paga e usa le Ducati Desmo 16 da quasi 20 anni. Che significa da praticamente sempre. Sono stati insieme da sempre. Pramac è un cliente di Ducati da sempre. È successo che Ducati sembra aver forzato Campinotti in ottica 2027. Del tipo... adesso la invento tanto per far passare il concetto. Dicevo Campinotti ti diamo mezz'ora per decidere se vuoi le nostre moto anche nel 2027 o no. Sbrigati a decidere che non abbiamo tempo da perdere con te. E comincia anche a raccogliere i soldi perché le moto non è che sono gratis. Va bene, capito, ciao. E hanno attaccato il telefono. Quindi diciamo che Ducati se l'ha tirata un po' troppo. Campinotti si è incazzato perché dice... Ma con chi credete di parlare? Oh, e almeno questa è la storia che ci è stata data. È la storia in superficie. Poi, che ne so io. Comunque, Campinotti ha un'opzione a suo favore fino al 31 luglio. Che può aspettare fino al 31 luglio per decidere se vorrà tenere le Ducati per il 2025 e 26 oppure no. Se decide di sì, Ducati dovrà dargli due moto ufficiali. Quindi, teoricamente, Campinotti può rimanere così in sospeso fino alle 23 e 59 del 31 luglio. Poi, quali siano le penali se Ducati decidesse di non dargli dello stesso, non lo so. Ma questa opzione a favore di Campinotti è il motivo per cui Campinotti, scontento, ha tenuto a scacco Ducati. E il problema adesso è che senza Marquez e senza Martin, Campinotti le Ducati forse neanche le vuole più. Il team Pramac non è una factory che si può permettere di spendere milioni su milioni su milioni, tanto per passare l'aria in MotoGP. Pramac Racing è un business. E se considerate che Yamaha è disperata ed è disposta a fare di tutto pur di avere un altro team, tipo dare le moto gratis e magari pagare anche l'ingaggio dei piloti, che ne so, dico tanto per dire, mettetevi nei panni di Campinotti, un businessman, che risparmia qualche milione di euro in un anno e se li mette in tasca invece di darli a Ducati, e capite che l'opzione Yamaha è molto appetibile per Pramac. Comunque, Marquez non ha detto Pramac fa schifo, io non ci vado. Ha detto Pramac è un ottimo team, e l'ha dimostrato Martin, ma non è un'opzione per me, che non è nient'altro che politica. Sta forzando con Ducati, non è che sta sminuendo Pramac. E quindi la reazione di Campinotti è stata un po' fuori scala. Perciò se qualcuno non ci viene volettieri, ripeto, è un problema suo, non è certo un problema nostro, siamo stati 22 anni senza Marquez, credo che possiamo stare anche l'anno prossimo. Ma alla fine no, tutto questo per dire che a Ducati gli è scappata la situazione. A me sembra palese. Avevano tutto in mano, il piano era di tenere tutto e pagare poco vista la posizione di favore, e si ritrovano solo con Marquez, che sarebbero riusciti a tenere lo stesso perché, nonostante le sue opzioni, sapevano benissimo che sicuramente prima di cambiare moto un'altra volta ci avrebbe pensato dieci volte. E appena Marquez ha detto che non sarebbe andato in Pramac, nel panico, si sono rimangiati tutte le promesse fatte a Martin. Martin già non ne poteva più da prima ed è corso da Aleish. Aleish ha chiamato Rivola. Rivola ha chiamato la Piaggio e gli ha detto questo è il momento. La Piaggio ha detto di sì. Rivola ha scritto un foglio a mano al volo, e Martin l'ha firmato appoggiandoci le labbra sopra con il rossetto senza neanche aspettare che gli passassero una penna, perché era incazzato. E adesso Martin è incazzato con Ducati, Campinoti è incazzato con Ducati, e c'è ancora un mondiale in ballo. Qui la prima idea che è venuta a chiunque è che Ducati farà di tutto perché Martin non vinca il mondiale. Io capisco il ragionamento, ma vi chiedo, con un pilota e un team contro, sapete che succede se si palesa anche solo il sospetto lontanissimo di un sabotaggio da parte di Ducati? scoppia un putiferio mediatico molto più brutto e dannoso di quanto non lo sia un'eventuale vittoria del mondiale da parte di Martin con Pramac. E quindi forse la cosa migliore a livello di immagine è quella di lasciar stare tutto com'è e confidare solo in Francesco. E a chi dice che questa storia è la storia finta che ci hanno raccontato e che esiste una realtà sotterranea dove tutto questo è stato pianificato alla perfezione e nessuno ha sbagliato niente in tutti questi giochi di potere, chiedo, che motivo avrebbe Aprilia di raccontare che l'accordo è stato fatto all'ultimo secondo di notte a seguito dell'indecisione di Ducati? Aprilia e Ducati non si devono niente. Ad Aprilia dell'immagine di Ducati non gliene frega niente. E quindi secondo me se Rivola ha raccontato quello che ha raccontato è perché è vero. È una di quelle volte dove l'ipotesi più facile è quella giusta. E quindi chiudo con il paradosso di tutta questa situazione e cioè che Dall'Igna ha sempre voluto Marquez, Dall'Igna e Marquez sono sempre stati innamorati l'uno dell'altro, ma non è stato Dall'Igna educati a scegliere Marquez. È stato Marquez a farsi scegliere, che è ben diverso. Sì, ho detto Alpine, è il Gran Premio d'Italia. Suona bene.